Ben ritrovati, ben ritrovati a Cantieri, nuova puntata, appuntamento settimanale con questa rubrica, parliamo un po' di tutto, affrontiamo parecchi argomenti un po' a 360 gradi e anche oggi abbiamo il piacere, l'onore di avere un'altra scrittrice, una donna, una donna Mafalda Daniele di La Mezzaterme, scrittrice, ha presentato questo bel libro che chiamiamo Una donna da sola, allora innanzitutto presentiamo Mafalda, Mafalda è di La Mezzaterme, raccontaci un po' il tuo escursus. Sì, allora vabbè sono nata alla Mezzaterme, ho fatto i miei studi qui alla Mezzia fino al liceo, poi per fare il liceo artistico sono andata a Carranzaro e quindi già dieci anni comunque avevo la predisposizione verso l'arte, sia della scrittura che della pittura, infatti era un aneddoto molto carino che al mio decimo compleanno tra tanti regali che ricevetti il più caro a quale ho ottenuto di più era un diario segreto che io iniziai subito a scrivere. Dopo il liceo io giocavo anche a pallavolo, quindi iniziai i brevi studi universitari che poi abbandonai, giocai a pallavolo fino alla B2, quindi a livello professionistico, fino a quando poi non ho abbandonato tutto per iniziare a lavorare. Ho fatto diversi lavori, però ho sempre mantenuto la scrittura prima di tutto. La pittura a tratti perché comunque ha bisogno di più tempo la pittura, mentre invece la scrittura anche dopo una giornata di lavoro, la pallavolo, la famiglia e gli amici riuscivo ad avere il tempo anche di buttare legge una poesia, una massima, un aforismo, una frase, una semplice riflessione, insomma anche qualcosa che era successo di particolare durante la giornata. Quindi la scrittura l'ho sempre portata con me. Per diversi anni sono stata piena di... presa nel tempo dal lavoro e da tutti gli altri impegni. Fino a quando poi a un certo punto ho detto basta con queste massime frasi che scrivo, che ne sono piena, tant'è che tempo fa avevo provato a rimetterle insieme. Ti eri dedicata agli aforismi. Sì, perché per tempo era facile per me la sera buttare piccole frasi, insomma. Però per me era una necessità scrivere. Cioè sentivo proprio il bisogno, era come se... Diciamo che era anche un sogno da piccolina. Sì, anche un sogno. Lo scrivere, pubblicare un libro. Sì, anche, anche. Ma anche leggere libri, perché io da piccolina mi ricordo questa libreria enorme a casa mia, a casa di mia madre. Li guardavo, siccome erano libri un po' importanti, insomma, per la mia età non erano leggibili. Li guardavo e dicevo prima o poi li leggero tutti, nel senso che comunque avevo questa predisposizione sia alla lettura che alla pittura, che allo scrivere. Insomma, poi alla fine, a un certo punto ho detto basta, adesso devo iniziare un libro. Sappiamo che poi scrivere, vabbè, però poi pubblicare è difficile, perché bisogna trovare l'editore, chi te lo pubblica, però tu hai avuto una soddisfazione in questa, diciamo, è una soddisfazione nel senso che il libro è stato pubblicato da una casa editrice importante, nazionale. Come si è arrivata poi a convincere l'editore, qui parliamo l'editore, edificare universi, giusto? Europa Edizioni, è la collana edificare universi, però la casa editrice è l'Europa Edizioni. L'Europa Edizioni. Come si è arrivata questa casa editrice importante nazionale? Allora, prima di tutto... Perché non è facile. No, non è facile, poi prima di tutto ho partecipato a un concorso, ho partecipato al premio Bukowski di Viareggio, dove sono arrivata tra i finalisti e ho preso il diploma di onore, e questo già ovviamente, quando sono andata poi a scrivere, a presentare il mio manoscritto alle varie case editrici, perché prima dell'Europa Edizioni l'ho mandata ad altre case editrici, comunque grandi e nazionali. Alla fine, questi qui hanno valutato il mio manoscritto e lo hanno ritenuto piacevole sia per come è scritto, sia nella storia, e quindi mi hanno fatto la proposta editoriale. Perciò fra poco parleremo del libro, logicamente siamo qua per l'appuntamento del libro, una donna da sola, però è giusto per chi non ti conosce a casa, che vogliono sapere chi si trovano davanti, devo dire per quel poco che ho conosciuto, ci diamo del tuo, per quello che ho conosciuto Mafalda, è una donna di carattere, una donna che gli piace il lavoro a 360 gradi, è un lavoro che è appassionato di quello che fa, si vede negli occhi, uno che fa passione, vuol dire che ha tanta voglia, e questo mi ha colpito. Poi si esce con questo libro, che è una donna da sola, parlo di un amore fantasioso, questo lo posso dire, di un idraulico, io dico un po' quello che ho letto, di un idraulico che vede questa donna, si innamora, però lei non sa, è un amore che rimane dentro l'idraulico, innanzitutto perché l'idraulico? Voglio sapere se è una storia vera o di fantasia, se è esistito davvero questo idraulico e se è un po' una tua autobiografia su questo racconto? Allora, l'idraulico non esiste, potrebbe essere esistito una persona che si sia innamorata effettivamente di questa persona, perché l'idraulico? Perché l'idraulico? L'idraulico è una figura molto importante tra le figure dei lavoratori, perché come si sa, dove c'è acqua c'è vita, e quindi l'idraulico che porta l'acqua nelle case, porta la vita in realtà, e quindi per me è una figura fondamentale tra i lavoratori, tra le persone, cioè è quasi come un eroe, nel senso che porta la vita, e quindi è essenziale all'universo, al mondo. Una donna da sola, con l'occhio che ti vedeva l'idraulico, come donna da sola? Certo, certo, sicuramente, sicuramente. Ma c'è questo idraulico che si fa di mille fantasie su questa donna? Poi questa donna ne combina di tutti i colori, si mette a cantare. Questa donna è un po' del mio, un po' della fantasia. Un po' richiama il tuo carattere? Un po' sì, un po' sì, un po' sì. Infatti qualcosa della pallavolo, insomma qualche accento. Poi c'è per esempio il fatto che lei ami tanto questa città, quindi descrive questa città in modo particolare come la piazzetta, il Corso, alcune strade del centro storico, ma non solo la media, ma anche la Calabria, proprio un amante della sua terra. Quindi lei, e qui ecco, ho messo del mio, cioè reale, del mio amore per la mia terra. Un amore per la tua terra, a me fa piacere quando sento qualcuno che parla dell'amore, adesso siamo calabresi, insomma. Sì, sì, sì. E molto oltre si disprezza la propria terra, no? E si apprezza quando si va via. Siccome tu hai avuto anche un trascorso, diciamo, in Toscana, e hai vissuto fuori, in quel momento che sei partita, magari entusiasta, vado in Toscana, cambio vita, però quanto ti è mancata la tua terra, la tua città, nel momento che poi hai vissuto in Toscana? Sì. Perché poi tu sei rientrata, diciamo, e ti sei proposta, diciamo, nella tua città. Sì. Allora, io ogni volta che sono andata via, non vedo l'ora di tornare. Anche quando sono andata in viaggio, mi è capitato, per esempio, di fare un viaggio in Australia un mese, e io non vedevo l'ora di rimettere i miei piedi su questa terra. Dopo due anni in Toscana, devo essere sincera, la Toscana mi ha offerto molto. Sono stata benissimo, mi ero adattata e tutto quanto. però qui ho la mia anima e forse ho anche più ben ispiratrice qui, perché vivo di emozioni qui. Anche quando giro per le strade, vado al mare, abbiamo una terra bellissima, fondamentalmente. Purtroppo non viene valorizzata, però chi riesce ad apprezzarla e chi riesce a viverla, offre tanto, offre tanto. Un amore per la sua terra, un amore che ti ha portato poi a scrivere tante cose, un'altra Polismi, ma questo libro principalmente, che io invito questo inquadrante a leggere, perché è un bel racconto, un bel racconto tra verità e fantasia. Perciò è velocissimo da leggere. C'è questa storia appassionante, ripeto, questo idraulico, che vive di fantasia di quest'amore non corrisposto in un certo senso. Non è che non è corrisposto. È lì. Non voglio dire troppo sul finale. No, al final no, però teniamo sui contenuti, però sui contenuti, questo amore c'è, è forte, ed è forte. E lei che purtroppo è troppo presa, quindi non si accorge fondamentalmente di questo amore. Ed è una cosa che può capitare a tutti. Ma perché lei poi è presa da un altro sentimento, probabilmente. No, lei è presa dai suoi obiettivi. Che possono, lavorativi? Lavorativi. Facciamolo scoprire sul libro, questo. Ecco, infatti, sì, perciò intanto vi invito a leggere questo libro che è una donna da solo, da sola, chiedo scusa. Allora, Mafalda, tu hai fatto tanti aforismi, no? Poi sei andato sul libro, nel momento, perché tu sei, diciamo, la prima opera che hai scritto ufficialmente alla casa editrice. Sì, questa è la mia prima opera. Una giovane scrittrice cosa approva alla pubblicazione a livello nazionale di un libro. Magari che tu manco speravi più, diciamo, che qualcuno ti pubblicasse questo libro. Insomma, poi si arriva i risultati come un obiettivo raggiunto, no? È un'emozione, non so, di scriverla perché è veramente immensa. Mi ricordo sia quando arrivo l'e-mail del concorso dove presi, diciamo, constatazione del fatto che ero tra i finalisti. saltai dalla sedia dell'ufficio, insomma, mentre ero al lavoro. Poi quando arrivo la telefonata della casa editrice a volte quasi non riuscivo neanche a seguire quello che loro dicevano. Ti ricordi la telefonata come è stata? Sì, mi ricordo, era una donna che si occupava proprio di valutare i manoscritti e praticamente mi disse che aveva letto il libro che le era piaciuto molto che le piaceva molto quest'idea dell'uomo che si immerge che cerca di capire questa donna del fatto che sendo scritta da una donna però viene scritto come se fosse un uomo e poi soprattutto nel libro l'uomo all'idraulico qua si parla tu per tu con il lettore quindi magari si riferisce verso il lettore ma voi cosa ne pensate quindi quasi è un dialogo con il lettore vuole un consenso del lettore si 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 e quindi era entusiasta insomma del libro mi ha detto se lei è d'accordo ne parlo con il direttore insomma e facciamo una proposta editoriale io in alcuni momenti sentivo in altri no tanto che ero emozionata chiamai subito mia madre insomma il mio compagno per manifestare diciamo la mia felicità quant'è una donna da sola ma falta beh fondamentalmente perché poi tu hai una vita una vita sentimentale un compagno sì ma non so io non so tanti amici tanti amici ho una famiglia grande ma poi c'è sempre un po' di di solitudine di una persona io sì sì fondamentalmente sarà forse anche per il mio bisogno di scrivere di dipingere che cerco la solitudine ti isoli mi isolo di mio e in quel momento diventi una donna da sola e diventi una donna da sola sì ma anche quando sto in mezzo alle persone molte volte siccome magari tipo dentro di me sta succedendo qualcosa che poi sono quelle emozioni che vivo quelle sensazioni che poi trasformo in pittura o in scrittura quindi a volte magari anche in una cena con tanti amici sento il bisogno proprio di chiudermi allora mi chiudo divento da sola e prendo consapevolezza di quello che sto vivendo di quello che sta succedendo dentro di me allora mi ritrovo da sola tu praticamente in un momento conviviale sì che sei con anche con me sei con altre persone con il tuo compagno con i tuoi amici in quel momento cerchi sempre di capire i momenti di costruirci una storia sì a me piace essere consapevole prima di tutto di quello che succede dentro di me soprattutto quello che mi succede poi intorno e quindi tutto quello poi viene immagazzinato dentro di me è un po' in modo confusionario e quando io scrivo molte volte io scrivo di getto diciamo che quando scrivi poi vuoi aggiungere i tasselli vuoi mettere i tasselli no no io svuoto svuoto è come se poi dentro di me si ordinassero scrivo a volte scrivo di getto e non mi rendo conto nemmeno di quello che scrivo poi dopo rileggendo vedo che è tutto in ordine allora dico vabbè e intanto però ho svuotato tutte quelle sensazioni quelle emozioni quelle apparenze tutta questa roba qui l'ho riordinata dentro di me e l'ho fatta sfogliare in un libro in una poesia in un quadro in un aforismo sì 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 penso che tu già sicuramente hai preso gusto scrivere e vederti pubblicare perché poi succede che una volta che uno è conosciuto da una casa editrice certo gli viene pubblicato un libro viene in automatico se il libro è riuscito e come è riuscito il tuo libro gli editori gli propongono un'altra scrittura certo tu stai pensando io ho già pronto il secondo ah già sei pronta col secondo sì 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 ho già pronto il secondo ora quando dovrebbe uscire per l'uscita ancora non lo so perché come con l'altro prima sto provando a mandarlo a un concorso perché comunque i concorsi sono un ottimo diciamo non trampolino di lancio ma un modo ancora di più per farsi conoscere e soprattutto per essere valutati già diversamente dalla casa editrice quindi ho già mandato la storia com'è di questo copione che tu hai mandato allora mentre questa è stata la mia prima storia quindi ho cercato anche una storia molto semplice insomma facile da mandare giù e il secondo è molto più complesso il secondo è una storia che parte da una storia di mafia e arriva allo stravolgimento del sistema mondiale è una storia è un po' più complicata è un po' più complicato sì però ecco mentre lì è stata una prova anche con me stessa per quanto riguarda la mia prova in scrittura di un libro visto che ero abituata solo a poesie e cose varie riflessioni varie invece mi sono messa alla prova con un libro adesso ho più sicurezza anche di me stessa nello scrivere si acquisisce poi ovviamente il fatto che sia piaciuto il fatto che abbia avuto comunque dei consensi sei una donna molto versata nello scrivere sì 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 cioè qua mi parli di un amore diciamo di un amore e la parli di madre anche lì c'è l'amore anche lì c'è Dio come c'è in questo ma anche lì è fantasia un pochettino certo ci sono giù la fantasia va sempre eh vabbè ma è la fantasia perché poi ripeto i sogni sono importanti i sogni sono importanti ma poi è quello che offre il nostro contorno il nostro contorno è pieno di stimoli ecco perché è semplice per una che vive la mezza terra in Calabria immaginare una storia di mafia quasi perché comunque purtroppo la nostra terra ha anche i suoi lati negativi come questo quindi semplice con tutti gli stimoli che ci sono intorno con tutti gli arresti e le storie che sentiamo quotidianamente per i telegiornali insomma poi costruire è una storia fantastica insomma e quindi insomma tutto dipende da come si vive da cosa offre il posto in cui si vive ecco perché dico che in fondo io in questa terra oltre a viverci bene perché fondamentalmente mi piace stare qui ma poi mi arricchisce e comunque mi offre tanto di stimoli e anche di bellezze quindi come Mafalda come donna nel suo quotidiano come compagna o moglie mettiamolo come vogliamo nella vita di tutti i giorni sono frenetica sono frenetica perché volendo fare tante cose tra cui lavorare tenere in ordine la casa e comunque cercare di far stare bene il mio compagno e chi mi sta intorno in più voler scrivere voler avere il fine settimana libero per dipingere posso dire mi permetto mi permetto di dire anche se non conosco il tuo compagno che verrà beatificato questo compagno perché tu sei una donna insomma energica una donna che ha tanta voglia di fare purtroppo non è facile starmi dietro non è facile non è facile starmi dietro no complimenti al tuo compagno grazie riferirò non vedrai in televisione no? e Daniele che cos'è per Daniele per Mafalda Daniele che cos'è l'amicizia ecco quella è una cosa molto particolare e molto fondamentale nella vita perché tra le tante cose io cerco sempre di avere anche dei contatti con i miei amici gli amici sono quasi uno specchio perché con gli amici si parla e si è liberi totalmente e quindi ci riflettiamo dentro di loro io ho tante conoscenze ma pochi amici fondamentalmente ma degli amici che ho quasi tutti i giorni mi ci rapporto mi ci confronto e li vivo con gran piacere perché sono comunque anche loro uno stimolo con le loro storie con le loro quotidianità a farmi arrivare a alcune cose della vita che magari a me sfuggono io ti voglio fare una domanda che di solito sembra una frase fatta di un programma famosissimo però io dico che è fondamentale questa domanda non è buttata così al caso che cos'è per Mafalda il senso della vita? Sicuramente io metto prima di tutto la vita spirituale di una persona per me la mia spiritualità è molto importante quindi credo fermamente in Dio non ho ho un credo molto particolare nel senso che credo in Dio ma credo in tutte le religioni esistenti sulla terra e sto facendo uno studio di tutte le religioni dalla preistoria ad oggi perché io rispetto del cattolicesimo come dell'islamismo dell'ebraismo per quante ce ne sono in tutto il mondo quindi vivo in in presenza diciamo di questo di questo mio di questo mio credo e questo cosa significa che poi ovviamente si ripercuote sulla vita quotidiana di amore rispetto famiglia e quindi tutto ciò che si può godere al meglio di questa vita ti faccio un'ultima domanda perché ritengo che sia attuale bisogna farla questa domanda in un periodo di pandemia di covid ognuno la viviamo in un nostro modo chi in un modo chi in un altro mi auguro sempre con rispetto delle regole certo io faccio questa domanda a Mafalda come sta vivendo quest'anno pandemico particolare come scrittrice come donna come compagno come tutto io fondamentalmente bene perché dovendo stare a casa comunque ho più tempo per scrivere e dipingere infatti mi piacerebbe che tutti quanti cercassero un hobby perché chiunque alla fine riuscirebbe a scrivere qualcosa a tirare giù un disegno a fare una foto insomma un hobby qualcuno ce l'ha sempre una passione qualcosa dentro che riesce a fare e che aiuta sicuramente a vivere meglio questa chiusura che noi stiamo avendo da un po' di tempo per quanto riguarda i rapporti familiari ecco un po' magari qualche sofferenza in più perché magari ci vediamo di meno per esempio dei familiari fuori che non vedo da un po' quello sì mi pesa un po' però mio personale diciamo va bene va bene lo sto vivendo fondamentalmente anzi a volte preferisco la città senza tanto traffico andare al supermercato e non trovare tanta gente perché vado in orari particolari i negozi poi alla fine fondamentalmente non abbiamo proprio necessità ma io credo che di abbigliamento scarpe e cose varie ne siamo pieni tutti quindi questa mania diciamo di dover avere i negozi aperti non la vedo magari ecco il pranzo fuori potrebbe essere un diversivo perché perché per una donna e sono tante le donne che tutti i giorni in famiglia preparano il cibo insomma il pasto per la cena per il pranzo avere quel pranzo domenicale fuori dove riposare anche loro dalla routine quello è una cosa che non manca solo a me secondo me ma manca un po' a tante donne Mafalda dove si può trovare il tuo libro lo ricordiamo sempre una donna da sola di Mafalda Daniele sì nelle librerie e sul sito della Casa di Trigero Pedizioni sui siti internet Mondadori Solfer Trinelli anche Amazon e quindi è ordinabile un po' dappertutto bene io ti ringrazio per aver citato l'invito qui nei studi di Globo di VU Galaria 1 ringraziamo anche RT che manderà in onda questa intervista abbiamo scoperto abbiamo cercato di conoscere in questa mezz'oretta la donna Mafalda e ci siamo fatti raccontare un po' della sua vita con molta semplicità e umiltà però non sottovalutando la professionalità e la bella scrittura di questo volume di questa storia che va sulla realtà e fantasia aspetteremo nel prossimo libro mi auguro che sarei ospite dei nostri studi quindi vi parleremo e intanto vi invito a comprare una donna da sola grazie 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 ancora Mafalda per tutto bene finiamo qua questo appuntamento settimanale con Cantiere vi auguriamo una buona settimana e ci vediamo la settimana prossima con qualche altro ospite alla prossima con Cantiere grazie